Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati sul canale per un nuovo video, è ormai la fine di dicembre quindi ragazze è l'ora, è giunta l'ora di fare un altro prodotti finiti del mese non ho consumato tantissime cose ma sapete com'è che ogni mese diciamo un mese sì, un mese no, anzi ci sono un po' più prodotti perché ovviamente alcuni li consumi nell'arco di due mesi e quindi magari il mese successivo ce n'è qualcuno di più perché questo mese ne ho portato qualcuno a metà che vedrete il mese dopo, è un po' così, c'è sempre un po' l'alternarsi di un mese più intenso e un mese meno intenso intanto credo di aver risolto il problema della luce perché ho spento questa luce che era alle mie spalle che quindi creava una sorta di ombra e infatti ditemi se così non notate me stessa molto molto più in luce rispetto allo scorso video come ero in luce diciamo nel primo che ho girato con questo sfondo, credo di aver risolto almeno io mi vedo ben illuminata quindi spero anche voi siccome mi chiederete che rossetto ho perché è una costante vi dico che è appunto uno dei preferiti che vi nomino ultimamente Livro Rocher Grand Rouge L'Elixir la numerazione è la 108 è la 108, questo qua è bellissimo ed è assolutamente in pandan con questa magliettina con mini, non con le unghie perché le unghie sono di un rosso un po' più scuro però insomma sapete che questo è uno dei miei colori preferiti di rossetto in genere quello invece che avete visto l'altro giorno è sempre questo qua quello che mi chiedevate tantissime nel video chiacchiere in smart ma è il numero, aspettate che ve lo dico eccomi allora è il numero 112 ed è questo che è rosso e proprio praticamente era quello che avevo nel video chiacchiere in smart che infatti stava meglio con lo smalto è proprio un bel rosso lo vedete molto bene perché peraltro in smart ero illuminata dalla luce del giorno e quindi si vede molto bene tantissime hanno chiesto anche in privato che colore fosse ed è questo qua questo rosso bellissimo quindi non è dei matt cioè non è questo tipo di rossetto che sono i matt ma è questo qua sono sempre di Verocher però io preferisco cioè preferisco proprio per il metodo di applicazione questi perché i rossetti li devo sempre applicare con l'aiuto di una matita con l'aiuto di un pennellino perché ho un bordo labbra molto irregolare e non sporgente cioè non è che se faccio così lo segno bene mentre con l'applicatore floccato dei rossetti liquidi mi trovo strabene e quindi sono più pratici detto questo andiamo sui prodotti finiti allora inizio con un prodotto multifunzione che non è finito ma come vedete ce n'è proprio un goccino goccino un tantinello così alla fine però ve lo metto credo che sia almeno la seconda boccetta che io finisco di questo prodotto si chiama erboristica di Atena olio corpo e capelli macadamia io questo prodotto lo compro e lo ricompro nonostante di regola abbia la possibilità di provare tanti prodotti per l'odore perché ha questo odore appunto di macadamia e di fiori che non so esattamente bene perché si è un po' perso c'era scritto sicuramente macadamia e qualcos'altro comunque una fragranza vanigliata floreale buonissima ma soprattutto ciò che contraddistingue questo olio è la sua multifunzionalità lo uso per mille cose lo tengo spessissimo sopra il soppalco vicino al letto appunto dietro non posso dire comodino perché non ho un comodino ma ho diciamo una specie di scaffale alle mie spalle dove ho anche una cassettina dove tengo i prodotti beauty che tengo vicino al letto insomma e questo lo tengo sempre lì perché metto proprio l'olietto sulle cuticole prima di andare al letto faccio... se ho i piedi molto... mi sento i piedi molto secchi faccio un impacchino d'olio ai piedi cioè ungo bene i piedini prima di dormire e poi lo utilizzo anche per le lunghezze quindi ne metto magari un goccino sulla mano e lo metto sui capelli sulle lunghezze o addirittura se li devo lavare il giorno dopo abbondo e ne metto un bel po' magari cambio la federa metto una federa di quelle... ne ho una diciamo che uso sempre che se si macchia non mi frega nulla metto quella e mi ungo bene i capelli e il giorno dopo magari so che devo fare lo shampoo lo uso ovviamente a volte anche per il corpo ma meno lo uso proprio per questi usi che vi ho detto e lo adoro ha una profumazione meravigliosa ed è uno di quei prodotti che d'estate non manca mai nel mio beauty perché me lo porto dietro essendo un multifunzione mi serve per un sacco di cose e quindi anche come prodotto quando lavo i capelli buonissimo e ormai l'ho terminato ma lo ricomprerò perché mi piace tantissimo poi ho terminato un mascara e si chiama l'Otrejuice Extension di Sephora sapete che è uno dei miei preferiti in assoluto l'Otrejuice Carl mentre non mi era piaciuto l'Otrejuice Volume l'Otrejuice Extension che è questo lo trovo ottimo è veramente buonissimo mi separa benissimo mi allunga e mi volumizza ha uno scovolino in silicone fatto in questo modo non è troppo grande quindi a me piace perché detesto gli scovolini giganteschi che mi sporcano dappertutto diciamo che lo posso ancora utilizzare ma sapete che ormai sono passata all'utilizzo di quello di Corf perché dopo un po' mi stufo voglia di provare robe nuove ma questo diciamo è proprio agli sgoccioli quindi ve lo recensisco ve lo metto nei prodotti finiti perché ormai ho proprio un'opinione ben definita è sicuramente uno dei mascara migliori che io ho provato in tutto il 2018 promossissimo lo consiglio lo straconsiglio tra i due forse preferisco questo addirittura l'Otrejuice Carl che vi ricordate per tantissimi mesi e penso anche nel 2017 era stato il mio top mascara in assoluto insieme vi ricordate quello di Bottega Verde che mi piaceva tantissimo lo adoravo ecco anche questo va sul podio è un ottimo 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 mascara poi ho terminato un po' di prodotti di skin care li ho addirittura aperti vedete questo l'ho tagliato e ho finalmente finito il Resultime contorno occhi che si chiamava Wrinkle Filler Serum Eye and Lip Contour ottimo ottimo prodotto è fatto con questa pallina cioè con questo applicatore in metallo che dovrebbe servire magari nel momento in cui avete le borse così a sgonfiare meglio gli occhi cioè la zona sotto gli occhi ma non l'ho mai utilizzato così mi piace di più mi piaceva di più prelevare il prodotto e picchiettarlo con le dita lo trovo un ottimo prodotto veramente veramente buono anche se devo dire la verità non pensavo mi sarebbe piaciuto così perché è piuttosto schieroso si assorbe subito e di solito preferisco contorni occhi più corposi però devo dire che invece a dispetto della texture un pochino leggera che non mi faceva presagire un grande nutrimento mi sono trovata benissimo lo applicavo sia la mattina quando ho la skin care sia la sera e tutte le volte che non mi truccavo immediatamente dopo l'applicazione lo riapplicavo nel momento in cui dovevo truccarmi si assorbe immediatamente vi permette di truccarvi subito e applicato immediatamente prima del correttore notavo che mi rendeva molto più semplice la sfumatura l'applicazione del correttore e che faceva anche sì che il correttore mi durasse di più senza andarmi a seccare il contorno occhi mi è piaciuto molto ho finito anche la vitamina C suspension 23% più HA sfere 2% questo prodotto di vediamo se riesco ecco questo prodotto di The Ordinary dovrebbe leggersi in pratica la vitamina C quella non in silicone perché c'era anche quella in silicone e mi è piaciuto moltissimo all'inizio intendevo metterla la mattina come diciamo siero viso ma poi ho completamente cambiato la mia routine infatti nell'aggiornamento skin care ve lo avevo detto e l'ho utilizzata sempre sempre la sera perché l'andavo a mischiare col resveratrolo e con l'acido alfa lipoico che sono estremamente untuosi ne è rimasto forse un cicinin forse riesco a farvi vedere la texture vedete è veramente impalpabile e si asciuga subito ma diciamo che rimane leggermente oleosa anche se una volta spalmata si va ad asciugare del tutto però rimane lascia la pelle bella morbidina solo che unita agli oli non riuscivo a metterla la mattina perché era veramente tutto un unto e bisunto e quindi l'ho destinata alla sera però devo dire che mi lasciava la pelle ben nutrita tant'è vero che io cioè è strano a dirsi perché forse perché gli altri contenevano l'olio cioè l'alfa lipoico e il resveratrolo erano molto oleosi quindi comunque mi sentivo la pelle bella ristorata perché io la sera ho bisogno di qualcosa di pesante di grasso perché se no la mia pelle tira devo dire che il risultato in questo periodo è una pelle molto molto bella devo dire mi ha levato un po' anche di discromie l'applicazione anche ovviamente dell'acido retinoico congiunta alla vitamina C resveratrolo e alfa lipoico il risultato è stato tutti male non la ricomprerò subito perché ho altri sieri alla vitamina C tra cui quello che adoro di Sincroline e il Sincrovit e quindi passerò a quelli però diciamo che l'esperienza con The Ordinary è senz'altro positiva mi è piaciuto il prodotto applicata da sola secondo me non da neanche noia applicata al mattino e che io la univo diciamo ai sieri oleosi quelle oleosi appunto e quindi non la potevo utilizzare la mattina però un buon prodotto ottimo prodotto anche questo mi ha stupito la crema anche questa l'ho tagliata per poter utilizzare gli ultimi grammi di prodotto ed è il Swan Collagen 3 in 1 3 in 1 Collagen Cream Day Cream Night Cream and Mask è infatti una crema che loro danno come crema giorno crema notte e maschera se lasciata in posa l'ho utilizzata semplicemente come crema giorno come crema notte no perché come vi ho detto mettevo la vitamina C più gli altri oli ma pensavo che non bastasse perché effettivamente è molto sierosa molto leggera non è una crema corposa e io prediligo le creme corpose devo dire che nell'ultimo nell'ultimo mese cioè in dicembre l'ho addizionata con una qualche goccina di dell'olio di eterea questo qua il Supreme Oro Viso proprio perché era è molto leggerina però nonostante sia leggera come texture ragazze fa veramente il suo dovere a parte che è stratifico quindi metto la essence di Resultime poi metto il siero di Resultime poi appunto arrivo a questo arrivo dicevo a questo prodotto quindi già comunque il viso ne ha avuto di prodotti però la immaginavo molto più adatta all'estate quando l'ho sentita come texture ho detto questa magari d'inverno un po' leggerina invece no invece no devo dire che solo ed esclusivamente nell'ultimo mese in cui ha fatto veramente tanto freddo quasi anche un po' a livello precauzionale aggiungevo due tre goccine dell'olio viso di eterea mi è piaciuto il Resultime ha fatto questa linea che devo dire mi è piaciuta sapete soprattutto per che cosa l'impressione perché poi si naviga sempre sulle impressioni perché noi non potremmo sapere come sarebbe stata la nostra pelle se non avessimo magari utilizzato certi prodotti però è ovvio che il feedback che sentiamo in quel periodo di sensazione almeno c'è perché allora io ho visto il mio viso bello fresco e riposato in questo periodo devo ammettere c'è da dire che sto anche dormendo tanto nonostante sia lavorando tanto ma perché sto andando a letto piuttosto presto ma la sensazione che ho avuto è stata quella di polposità cioè mi è sembrato che è una linea al collagene quindi questo dovrebbe fare però la mattina sentivo bene il mio viso bello pienotto bello pieno bello untrito bello sì pieno pieno polposo polposo quindi sì mi è piaciuta tanto è una buonissima linea a mio avviso e tiro su questa sacchettina perché mi pare che con i prodotti che avevo poggiato qua sopra io abbia finito sì vado con un una mist vedete ce n'è veramente pochissima due tre volte ed è finita forse neanche la Miracle Hydrating Mist della linea 8Hour di Elizabeth Arden è quindi una mist idratante che uso anche per fissare il trucco che non manca mai nella mia beauty in borsa proprio la porto dietro con me in estate e in inverno in estate mi rinfresca il viso perché c'è veramente magari tanto caldo e sento il bisogno di rinfrescarmi il viso in inverno quando la mia pelle è sottoposta al trattamento dei retinoici c'è tanto freddo quindi tende a screpolarsi mi evita un po' quell'effetto di screpolature che magari possono essere più visibili dopo un tot ore che mi sono truccata mi rinfresca e mi fa vedere meno infarinata in viso magari riapplico la cipra e poi ci spruzzo la mist è una delle mie preferite in assoluto è ottima è buonissima mi ridà un effetto fresco e mi fissa il trucco alla perfezione mi piace tantissimo quindi sì un prodotto che mi piace ho finito un bagno schiuma ce n'è proprio pochissimissimo vedete credo che riuscirò a farci una doccia però diciamo che ormai è andato ed è il bacio sotto il vischio bagno doccia di bottega verde se vi piacciono i profumi invernali le profumazioni invernali questo è a base di cannella e vischio sa proprio di dicembre dicembre gennaio insomma sì anche di natale è stra buono è una droga ovviamente il video vi piacerà la profumazione è molto delicato è messo nell'acqua del bagno vi fa veramente un sacco di schiuma è una profumazione molto in mood con la stagione quindi mi è piaciuto tanto anche lui vi faccio vedere i prodotti per le lenti nel video chiacchiere smart vi ho detto che ero andata al DM a riprendere i prodotti per le lenti allora questo non ce l'ho ho già aperto il nuovo e ho buttato la boccetta quindi non ve lo posso far vedere ma ve lo faccio vedere comunque sappiate che l'ho appena terminato e per quello sono andata a ricomprarlo ed è il conservante si chiamano visio max questa è la lozione salina e questo qua è il detergente ovviamente nel mio caso si tratta dei due prodotti per la pulizia delle lenti semi rigide la lozione salina la utilizziamo tutti però sappiate che ci sono anche per le lenti morbide costano 3,99 l'una sia il detergente che il conservante questa addirittura è in promozione non so per quanto tempo a 0,99 se no di solito costa 2 euro e rotti questo mese io l'ho trovata a 0,99 infatti ne ho preso due flaconi e li ho conservati mi sono trovata benissimo inizialmente ero un po' scettica compravo di solito i prodotti della Total Care che costano immensamente di più cioè questo qua che pago 3,99 di solito lo pago 8 euro e idem questo grosso lo pago sui 10 euro quindi pagarli 3,99 ho detto caspita è un bel risparmio provo e vediamo come mi trovo ero memore dell'esperienza da questo prodotto che si chiama Now scritto N-A-U che se voi girate nei centri commerciali avrete visto come monomarca appunto di prodotti per le lenti di occhiali eccetera avevo preso il detergente da loro ed è pessimo mi spiace dirlo è pessimo e vi dico che è pessimo perché io a un certo punto non vedevo più bene dalle lenti le avevo sempre sporche e sono andata dall'ottico e gli ho detto guardi io non vedo più da queste lenti e me le può controllare vedere se sono vecchie eccetera le ha controllate e mi fa sono sporche le stai pulendo e dico sì ma con quale prodotto gli faccio vedere il prodotto mi dice guarda probabilmente è un prodotto che non funziona ha preso un suo prodotto che non è tra questi qua ma era il solito che usavo il Totter Care ha pulito le lenti me le ha rese le ho messe erano perfette cioè questo prodotto non puliva quindi proprio è bocciatissimo non ve lo consiglierei assolutamente al che ho detto quando ho visto questi ci provo li provo vediamo se funzionano ragazzi sono perfetti quindi se siete portatrici di lenti a contatto io per la mia esperienza vi dico che dovete andare a prendere questi del DM provateli poi magari ognuno dice la sua io mi sono trovata stra bene e mi puliscono benissimo e risparmio tantissimo quindi li straconsiglio in questi prodotti finiti metto anche un prodotto per la casa si tratta dell'Airwick Pure questo è all'arancia quindi l'ho usato essenzialmente per gli odori della cucina perché personalmente l'agrumato lo trovo ottimo per gli odori di cucina ma non mi piace per il resto della casa non credo che comprerò più altri deodoranti per ambienti per il semplice motivo che non solo la fragranza è ottima e persiste ma per il fatto che quando voi spruzzate nebulizzate solo profumo e non acqua nel senso che voi quando spruzzate non vedete cadere tutte le goccine che di solito mi sporcavano anche il pavimento nebulizza esclusivamente solo profumo cioè se voi mettete la mano e ve lo spruzzate così non vi bagnate non so se mi sono spiegata è puro profumo nebulizzato in modo che non vi bagna la mano infatti si chiama senza aggiunta di acqua dice neutralizza gli odori un'esplosione di fragranza senza aggiunta di acqua è fantastico voglio prendere quello rosa fucsia che mi ricordo mi piaceva tantissimo anche quello azzurro credo che si è finito anche se no no è finito ogni tanto provo a spruzzare no non c'è più nulla infatti no è solo aria è fantastico è ottimo non comprerò altri deodoranti per ambienti perché mi sono trovata stra bene quindi di solito magari non li prendevo super buoni di marca eccetera ma devo dire che la differenza è tantissima mi è durato una vita e ricomprerò quello anche per le altre stanze che poi ne ho due cucina bagno e stanza però prenderò magari per la cucina di nuovo questo agli agrumi è buono però potrei prenderne anche uno unico e ricomprerò questa marca perché mi è piaciuta tanto ho finito un burro cacao di al verde alla bio calendula uno dei migliori burro cacao che ho comperato lo trovate al dem al verde la conoscete tutti è un prodotto bio idratantissimo ottimo prodotto niente da dire sapete un burro cacao figo ideale che nutre veramente costa poco e quindi se andate al dem altra cosa da tenere in considerazione il burro cacao ho finito un profumo della adopt punto francia questi qua li trovo alla upim so che non ci sono più molti upim forse siccome upim e ovs credo che siano ormai insieme probabilmente lo troverete anche nelle upim erano di quei distributori che stavano alle casse io li compro sempre questi qua ne avevo anche un altro però l'ho perso ragazzi quindi non ve lo posso far vedere era ad un'altra fragranza questo qui è i fiori di tiarei io li compro perché questi li butto in borsa adesso non lo farò perché ho tante mini sites di profumini questo è comodo perché ha nebulizzatore e lo metto in borsa perché puntualmente se vado a lavoro di mattina col profumo che spruzzo a casa io di pomeriggio non lo sento più e mi rispruzzo il profumo e questi che trovo alla upim mi piacciono tanto poi anche il tiarei vabbè sono drogata è un po' estivo però lo dovevo finire ho detto va bom poi ho un po' di maschere maschere tessuto idratante lenitiva le mucilaggini di malva bio toscana di biofficina toscana ottimo prodotto ottimo prodotto stra 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 imbibito vi lascia veramente il viso nutrito non nutrito idratato lenitiva non lo so nel senso io ho sempre la pelle piuttosto non dico irritata però chi usa retinoici lo sa leggermente arrossata perché sono degli esfolianti quindi la pelle è sempre molto molto delicata ed è proprio la mettete su sentite proprio che vi va a super idratare a lenire a rinfrescare il viso quando la levate la sentite proprio l'idratazione biofficina toscana una garanzia mi piace moltissimo con un sacco di prodotti e questo non è stato da meno poi ho provato questa di questa marca oddio non mi ricordo come si chiama aspettate ragazze ho un vuoto di memoria è una marca bio ed è una maschera al 100% di collagene che ha praticamente qua a fianco vedete questa questa parte è la crema la crema alloialuronico questa maschera è tra le più imbibite che abbiamo provato idem come biofficina toscana stra buona forse zao credo che sia zao ragazze ho un vuoto di memoria magari ve lo scrivo qua comunque me l'aveva regalata francesca e quindi l'ho trovata nelle bio profumerie questa con la conchiglia ho strappato la parte superiore e non mi ricordo come si chiama forse era zao c'ho un vuoto di memoria non lo ricordo chiedo a francesca dopo che ho girato il video ve lo lascio qua in sovraimpressione perché è un ottimo prodotto ha un sacchissimo di crema una quantità esagerata tipo 6 ml che infatti ho utilizzato per 4-5 sere a seguire ce n'è veramente tantissimo e credo che ce ne sia ancora un pochino che adesso utilizzo guardate ce n'è ancora un po' e infatti la utilizzo come crema mani che sono appena rientrata e fuori fa un freddo e quindi me la spalmo sulle mani è una ottima maschera ottima quindi di zao di zao era di zao il nome si non so mi frullava nella testa non mi veniva è di zao natural la trovate appunto nelle bio profumerie ed è ottima peraltro se vi dovete portare dietro per un paio di giorni la crema perché magari fate 2-3 giorni fuori anche 4 giorni ragazze si abbondanti proprio 5 oserei dire vi potete portare questa maschera che magari fate in una delle sere e utilizzare la crema che c'è qua senza problemi di portarvi dietro altro con una sala maschera avete tutto è un ottimo prodotto ed è buonissima anche in questo caso la mette cola quando la tirate fuori è proprio mega imbevuta molto imbevuta è buona anche questa è la panda face fibro face mask di ok che è un prodotto coreano è scritto così ok vedete ok la trovate negli store Shaka da OVS ed è questa forma di panda e io le trovo ottime ormai OVS ha un parco maschere veramente pazzesco talmente imbibita che se guardate bene non so se si vede in videocamera qua è ancora tutto sporco di prodotto perché quando la aprite cola proprio prodotto da tutte le parti cioè sono maschere veramente super imbibita di prodotto mi sono trovata bene con tutte in questi giorni di freddo è stato proprio un piacere tornare a casa guardate se io metto proprio la mano qua dentro la tiro fuori completamente vedete bagnata di prodotto tanto che ce n'è in queste maschere e guardate stra mega piena di prodotto perché sono stra imbibite e vi assicuro che l'ho tirata fuori quasi non riuscivo a spiegarla da quanto ne veniva giù quindi tutte queste tre maschere mi sono piaciute tantissimo ho ripreso a fare maschere in questi giorni in cui sono stata a casa peraltro mi spalmo bene sulla cicatrice perché praticamente ormai vedete la bruciatura non so se si vede sta pian piano guarendo ma va costantemente idratata e nutrita perché si irrigidisce tantissimo diventa dura mi sembra quasi di avere un cerotto al posto della cicatrice invece non ho più nulla ma ho la sensazione di avere un cerotto totalmente dura e rigida quindi devo sempre nutrirla molto bene e ci metto sempre costantemente qualcosa sopra e la sera tanta aloe sto usando l'aloe di equilibrio quella 98% perché so che insomma mi aiuta a rigenerare bene i tessuti ultimo ultimissimo prodotto che vi faccio vedere aspettate che metto le maschere qua dentro ho sforco tutto il tappeto perché ripeto sono tutte intrise ultimo ultimissimo prodotto è della food spring vi faccio vedere ho finito l'ennesimo barattolone di whey protein sono le mie preferite sono quelle al cocco non tanto per il sapore ma quanto per la versatilità nel senso che magari di sapore potrei anche preferire le altre ma se dovessi comprare un solo tipo di proteine prenderei questi al cocco perché riesco a farci il porridge senza che il sapore di questi al cocco sia troppo invasivo rispetto a come voglio fare il porridge stesso se lo voglio fare al cioccolato aggiungo le proteine al cocco ci sta bene se lo voglio fare soltanto diciamo neutro con l'aggiunta della mela la cannella ci sta benissimo se voglio fare uno shaker e magari metterci della frutta ci sta benissimo se voglio mischiarle al cioccolato ci sta benissimo insomma in ogni modo in cui io le utilizzi anche quando magari le aggiungo al preparato dei pancake ha sempre un buon sapore perché non è un sapore troppo invadente la fragola per esempio è un sapore molto invadente fa diventare tutto troppo fragoloso mentre questo si amalgama gli altri sapori magari predominanti che voglio utilizzare e quindi mi consente veramente di avere una versatilità d'uso per cui se dovessi prendere un solo gusto prenderei senz'altro queste qua al cocco senza contare che sono tra le proteine più solubili in assoluto che abbia mai utilizzato basta una shakerata sono perfettamente sciolte non formano grumi hanno un ottimo sapore ci sono proteine veramente ragazzi imbevibili sul mercato ne ho provato certe che è faticoso mandare giù queste sono proprio buone bisogna dirlo quindi si un ottimo prodotto mi è piaciuto tanto detto questo ragazzi trovate detto questo io vi saluto vi lascio comunque in infobox di foodspring i miei codici sconto laddove voleste comprare qualcosa perché sapete che collaboro con loro per il resto qualsiasi domanda mettetemela nei commenti so che spesso non riesco a rispondere a tutte le domande cioè a tutti i commenti cerco però di rispondere sempre alle domande specifiche cioè se qualcuno mi fa una domanda su un prodotto eccetera do sempre la priorità a quelli perché moltissimi dei vostri commenti sono complimenti e a volte vorrei rispondere grazie a tutti però in quest'ultimo mese che è stato dicembre le commesse mi capiranno ho lavorato tantissime ore al giorno la sera quando tornavo a casa ero stravolta e voi siete sempre così tanto pro di commenti che magari mi ritrovavo 200 commenti a cui rispondere è stato arduo spero di recuperare un po' e mi scuso con quelle a cui non ho potuto rispondere puntualmente vi ringrazio di cuore tutte quante perché mi siete state tantissimo vicino mi scrivete sempre tante belle cose tanti bei commenti anche di incoraggiamento e io vi sono grata perché la gentilezza e l'empatia non sono cose scontate e io vi sono veramente molto molto grata di questo lo dico lo dico veramente col cuore vi do appuntamento a domani ci sarà il primo la prima puntata dei beauty awards in collaborazione con una persona ci vediamo domani allora ciao ciao